Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori è morto nella notte il famosissimo attore una perdita incolmabile per il mondo del cinema e per le serie tv e prima di saperne di più prima di scoprire che è mancato vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 400 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video parliamo di un lutto che ha lasciato attoniti i tanti fan delle serie tv e con immenso dispiacere che il prima di Marco Liguori annuncia la scomparsa dell'attore Gary Graham era un volto molto popolare riconoscibilissimo soprattutto dei telefilm degli anni 70 e 80 lo ricordiamo per aver preso parte a telefilm come Starsky Hatch, l'incredibile Hulk, Chips e The Duke of Hazard ma lo ricordiamo principalmente per essere stato uno dei protagonisti assoluti di Star Trek e anche della famosissima serie Alien Nation di cui era protagonista l'attore e mancato a 73 anni il prima di Marco Liguori con grande dispiacere ricorda l'icona dei telefilm degli anni 70 Gary Graham mancata nelle scorse ore amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video io vi ringrazio per l'attore Grazie a tutti